Antonio Cammarota dice no. Il capogruppo del gruppo consigliare della nostra libertà e presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno è stato il primo firmatario per il referendum abrogativo della legge di riduzione del numero dei parlamentari che si terrà il 29 marzo prossimo. Stamani si è tenuta una conferenza stampa presso la sede del gruppo sul quarto referendum costituzionale nella storia della nostra Repubblica. Siamo sempre stati dalla parte della gente e coerentemente a questo continuiamo ad esserlo. Questo è un referendum in cui il cittadino non decide di una questione ma decide di se stesso, cioè decide della sua sovranità popolare. Perché questo referendum è un inganno. Si dice di voler tagliare la casta e il cattivo potere della mala politica e invece con questo referendum, col taglio dei parlamentari, si va a tagliare semplicemente la rappresentanza popolare. Si alimenteranno i centri di imputazione di interessi privati, di interessi economici, la casta dei partiti, gruppi di potere e si eliminerà e diminuirà la rappresentanza popolare, cioè il Parlamento. Si butta via il bambino e si conserva l'acqua sporca. L'analisi dell'Avvocato Michele Capano del Comitato Referendario per il No. La propaganda adesso sta cercando di far presentare questo referendum come una battaglia alla casta, un taglio di parlamentari che rappresenterebbe appunto una sconfitta per il Parlamento, che è l'organo principale della nostra democrazia. Negli ultimi vent'anni abbiamo visto scendere di molto la qualità dei parlamentari e dei personaggi che occupano le poltrone. Purtroppo questo non si combatte tagliando le poltrone, ma appunto cambiando la legge elettorale, togliendo i privilegi. Tagliare i parlamentari in questo momento poi politico in cui appunto diciamo è il populismo a dare molta voce, a fare la voce grossa, rischia di portarci a derive veramente inimmaginabili. Quindi questa è la terza volta che cercano di tagliare i parlamentari, 2006, 2016 e 2020. Le prime due volte siamo riusciti a fermarli e noi contiamo di fermarli di nuovo e cerchiamo di fare di tutto per coinvolgere la gente.